Ragazzi allora buona giornata a tutti, notizia di poco fa e non solo che deriva appunto da Spagna ma poi è stato confermato poco fa appunto da Romeo Gresti Il Barcellona sarebbe su Alvaro Morata per gennaio, ci sarebbero già stati i primi contatti con la gente di Morata Già i primi contatti anche con l'Atletico Madrid che di fatto è il detentore tra virgolette del cartellino di Morata E per Morata avrebbero proposto uno scambio con Depay Allora io sento già gente esaltarsi, godere, cioè io posso capire che Morata non faccio impazzire, posso anche capirlo Però prima di tutto è un titolare della nazionale spagnola e non sarà un caso Ha dei limiti, ha dei detrattori in Spagna anche non solo qua sicuramente ma anche gente, molta gente che lo apprezza, lo stima Uno di questi ad esempio è Xavi del Renato del Barcellona che ne ha visti gli attaccanti Xavi Quindi io credo che ne sappia sotto quell'aspetto Però al di là di questo perché sa, lui ha fatto il centrocampista, sa benissimo che Morata deve giocare costantemente per attaccare a profondità E con il gioco del Barcellona molto probabilmente Tant'è che poi con la Spagna fa il falso 9 Quindi al Barcellona per me andrebbe a fare proprio il falso 9 Ok? Quel ruolo che ho sempre detto da una vita che deve fare Alvaro Morata Non deve fare, la seconda punta la può fare, la prima punta pura la può fare L'esterno attacco lo può fare anche se l'ha fatto poche volte Ma il suo vero ruolo secondo me è il falso 9, un attacco 3 Punta centrale, il falso 9 Non il finalizzatore Quello che ti fa, che ti pulisce i palloni Quello che ti fa gli assist più che i gol Dato che Morata ha più gli assist nelle sue corde che il gol Quindi quello per me deve fare Morata Il lavoro, lo smistare i palloni Tornare a dare una mano anche ai centrocampisti E poi attaccare a profondità e rimpertire la rigore Questo deve fare Morata Però al di là di questo, sento appunto tanta gente esaltarsi Esaltarsi perché Depay, sì magari, Depay se sta bene Depay se sta bene sto cazzo Perché in Olanda viene, non lo sopportano Depay Per carità, segnerà anche con l'Olanda Quello che volete, ma è un giocatore mediocre Io credo che Morata, con tutti i suoi limiti, sia tre spalle sopra Depay Ok? Non lo dico perché a me piace Morata Non è che a me piace Morata, a me piace quel tipo di attaccanti lì È diverso Ok, boh Io sono dell'idea che sarebbe giusto Finire la stagione come siamo adesso Senza poi rischiare di fare danni ulteriori Perché poi Depay, sì ha 27 anni Sì magari fai un acquisto per il futuro Ma quanto può essere Luigi Miranto, un giocatore che comunque Soprattutto dopo la rottura dei legamenti A Lione è stato parecchie volte infortunato a livello muscolare Quanto può essere affidabile Depay ha fatto 1800 minuti più o meno In questa prima parte di stagione Morata ne ha fatti 1500 Depay ha fatto 8 gol, 2 assist In tutte le competizioni Morata 7 gol e 3 assist Di fatto cambia un cazzo tra i due giocatori a livello realizzativo Solo che Morata ha fatto 300 minuti in meno A me non piace parlare di numeri Però siccome voi mi sviscerate sempre Sti cazzo di numeri Che bisogna contestualizzarli Non bisogna spararli così alla cazzo Però siccome voi volete il finalizzatore Se voi volete Depay al posto di Morata Non ci capite un cazzo di calcio Ma ve lo dico proprio papale papale Ma non ci capita proprio un cazzo di calcio Poi Poi Questo è un discorso a livello tecnico Dei due giocatori Bene Poi E ovviamente dovesse esserci l'ufficialità Poi dirò veramente la mia su Morata Su quello che ha fatto la Juve Sapete benissimo come faccio i video Quando un giocatore se ne va Al di là di questo Che poi non è mai stato nostro definitivamente Né la prima volta né la seconda Perché la prima volta Real Madrid aveva Diciamo la ricompra Adesso è in prestito con diritto di scatto Quindi di fatto Morata È sempre stato più a Madrid che a Tolino Sia prima che dopo Bene Poi Per come ho visto io Morata Anche nelle ultime partite che ha segnato Morata io l'ho visto Non voglio dire scoglionato Perché comunque lotta Però l'ho visto nervoso Nervoso anche quando segna E questo è un sintomo Secondo me Che non sta più benissimo la Juventus Quindi Se è la società a spingere questo scambio Anche se da quello che riporta Gresti La Juventus non sarebbe Cioè sarebbe un po' Dubbiosa sui problemi fisici appunto Di Depay Se è la società comunque a spingere per questo scambio Anche se non sembra Appunto Sarei molto contrario Se è il giocatore È una scelta del giocatore Il problema è che la società Andrebbe sulla solita opportunità di merda Improvviserebbe un'altra cazzo di volta Cioè non c'è più programmazione Oltre che progettualità In questa cazzo di società di merda Si improvvisa Ti va via un giocatore Devi prendere un altro Ti va via Ronaldo Prendi Ken Perché ha il CTP là Che cazzo è il Solo per questi motivi qua Ti va via Morata Prendi Depay Perché hai bisogno di un attaccante qualsiasi Anche se non è una prima punta pure lui Allora lo prendi E poi ti troverai Depay Ken, Kai o Giorgio Che in tre non fanno una prima punta Quanto meno Morata Secondo me qualche gol in più Te lo consente E ti attacca di più la profondità A livello generale Siccome rispetto a Depay Poi non è soggetto infortuni Ha due barra tre anni in più di Depay Ma Morata Non ha mai avuto problemi muscolari Cioè Sì ha avuto infortuni Ma non problemi cronici Ovvio l'anno scorso Ha avuto questo problemino Perché comunque È da un anno e mezzo Che praticamente gioca solo lui alla Juventus Perché non ci sono ricambi Perché anche quest'anno È stato preso Ken Che non è una prima punta Tant'è che poi Ma io questa cosa Che sono stato il primo a dirlo Qui su YouTube in generale Quando Ken era ancora alla Juventus La prima volta Dicevo Per me questo giocatore È più un esterno attacco Con le caratteristiche che ha Rispetto alla prima punta Tant'è che poi Dopo qualche settimana È stato messo proprio lì In nazionale E poi Al PSG ha giocato praticamente solo lì E adesso Molti si stanno ricredendo Stanno dicendo Questo qui non è una prima punta Abbiamo sbagliato a prenderlo Perché è un altro esterno Beh Ragazzi Io Su Morata Sapete benissimo cosa penso Io non lo riscatterei Però Io ho paura Che Dovesse partire Morata Arrivi uno tra Milik e Depay Già gli stessi Skamak e Vlaovic Vi ripeto Ma Non fanno impazzire Poi Skamak costa tanto Vlaovic ancora di più E va bene Però Milik E Depay Anzi vi dirò di più Per me arrivano tutti e due Se lo vi è Morata Vabbè Perché per me andrà via anche Caio Giorgio in prestito Brodi E questo Io Continuo E poi ho sentito anche Dembélé Dalla Spagna Dembélé Va via a zero La Juventus Cioè facciamo Ragazzi Ma prendiamo tutti i giocatori Che hanno problemi Prendiamo Andiamo per i campetti Ogni cazzo di giocatore Che Ogni ragazzo Che ha un problema fisico Lo prendiamo noi Andiamo a prendere tutti quelli Che hanno problemi fisici Non so Andiamo in caso di riposo Prendiamo tutti gli anziani Perché a sto punto Cioè non so Sembra che la Juventus Se lo faccia apposta Di prendere Ovvio Poi sono solo voce Sono solo notizie Per carità Da qui a poi concretizzare Queste cose qua Ce ne passa Per carità Però già il fatto che se ne parli Non è un buon segno Secondo me Perché anche Dembélé Che a me Che a me non piace Neanche a livello Qualitativo Perché gli manca Secondo me Tanto All'ultimo Negli ultimi metri Per fare la differenza Poi per carità Un buon giocatore A livello tecnico Ma non è Secondo me Sto grandissimo Giocatore E poi anche lui Ha problemi fisici Non lo so Io ripeto Rimarrei così Cioè piuttosto Ti concentri in estate Prendi sto calcio Se sei una pista forte Che ti serve Un attaccante titolare E una riserva Anche a poco In prospettiva O ritorna Caio Giorgia Se fa bene E ti tieni Caio Giorgia Che io spero sia questo Perché ho sempre detto Caio Giorgia Per me l'hanno preso Per quel prezzo lì Perché sperano Che si faccia valere E che sostituisca Molata A prossimo anno Ho sempre detto questo Spero che Caio Giorgia Faccia Faccia vedere Le qualità che ha Perché non è Un finalizzatore Siamo tutti d'accordo Ha più caratteristica Appunto All'Alvaro Morata Diciamo Anche se magari Sa più usare Sa usare più il fisico Rispetto a Morata Però È un altro giocatore Che pulisce i palloni Più che finalizza Capite Quindi Bisogna vedere anche là Bisogna vedere anche là Però Secondo me Centrocampista E due attaccanti In estate vanno presi Sicuro Poi Lasciamo stare Gli altri ruoli Che poi Negli anni Non possiamo pensare Che la squadra Si faccia in un'estate Iniziamo da un centrocampista E due attaccanti E poi andiamo magari Un attaccante Con Caio Giorgia insieme E poi andiamo magari Negli anni prossimi A prendere il terzino A prendere il difensore centrale A sistemarci Iniziamo dal Nocciolo della squadra Che è il centrocampo E poi Andiamo a toccare Gli altri reparti Questo deve fare la Juventus Com'è Poi Tornando al discorso Morata Ripeto Non l'ho visto sereno Neanche quando ho segnato È uscito molte volte nervoso E Non mi sta piacendo Su alcune cose Però A livello di Di atteggiamento Sinceramente Siccome è uno dei pochi Che veramente Sudà la maglia Fino all'ultimo secondo Che poi magari Sbaglia tecnicamente Sbaglia dei gol Quello che volete Ma siccome è lui Bernardeschi Altri E pochi altri Siccome è Sono gli unici che In questo inizio di stagione Di quest'anno Si sono spaccati il culo Poi Posso anche sbagliarmi Però ripeto Questo scambio Io non lo farei Mai nella vita Mai nella vita Mai nella vita Punto Perché Ci vai a perdere Siccome è Ci vai solo Che a perdere Poi Magari mi sbaglio Spero di sbagliarmi Dovessero fare Sto cazzo di scambio Però La Juve comunque Sembra titubante Grazie a Dio Direi Vabbè Ragazzi Fatemi sapere la vostra Cosa avete pensato Di questo scambio Morata-Depai Di questi contatti Tra Tra il Barcellona E Morata E niente Ditemi la vostra Io vi ho detto la mia Ci vediamo in un prossimo video E sempre comunque Fino alla fine Forza di Vento Ci vediamo probabilmente In live domani alle 15 Per l'ultima live dell'anno Che faremo una tirata Tra me Spacca Il Tridente E poi in serata In tarda serata Alle 23 Con Gianni Bianco Per l'ultimo dell'anno Bianconero Così insieme Tutti insieme Appassionatamente Buona giornata a tutti E sempre comunque Fino a fine Forza di Vento Per l'ultimo dell'anno